Prima l'incontro con gli studenti negli istituti superiori o gubbini, quindi l'incontro aperto al pubblico sul tema legato alla storia ma anche all'attualità. È stato un fine settimana denso di spunti culturali a Gubbio grazie alla presenza di Marco Gatto, tra i protagonisti attesi della 27esima edizione della settimana del libro Leggere e scrivere al tempo del selvaggio web. E il tema trattato dal giovane filosofo e critico letterario era I barbari allo specchio, l'Occidente e i suoi falsi miti, una riflessione profonda su una contemporaneità che vede l'insorgere di una nuova narrazione ideologica fondata sulla violenza e sulla cancellazione dell'altro. È un tema del passato che è appunto passibile di attualizzazione, però in una certa direzione e in un certo senso. I barbari non sono soltanto coloro che arrivano ma sono anche coloro che ricevono e quindi questa doppia identità Barbara riguarda sia ciò che noi consideriamo con occhi spesso pregiudiziali lo straniero ma anche ciò che riempie la nostra identità, riempie i nostri pregiudizi, riempie i nostri stereotipi. Questo incontro fra identità va decostruito e va ricercato invece una condivisione di senso affinché lo straniero non venga percepito semplicemente come tale ma come una ricchezza. Marco Gatto, 35 anni, insegna presso l'Università della Calabria, si occupa di teoria della letteratura e di critica della cultura e tra le varie pubblicazioni ha scritto saggi di teoria e critica della cultura, particolare la disposizione degli studenti nell'aula magna del Mazzatinti espressamente richiesta da Gatto. Credo molto nella condivisione, nel dialogo e anche nel conflitto delle interpretazioni e questo si realizza soltanto quando la mediazione dell'insegnante diventa proprio carne viva, diventa dibattito attivo, diventa confronto e dialogo con i ragazzi in un'interlocuzione che deve essere paritaria perché questo è segno di grande democrazia e grande civiltà. L'incontro pubblico ha concluso la settimana dedicata alla mostra didattica delle scuole del territorio sul tema metamorfosi della paura, esposta nei corridoi della biblioteca comunale che hanno ospitato anche una mostra del libro e dell'editoria realizzata in collaborazione con le librerie locali. Tutte le iniziative fanno parte di un percorso lungo, un anno, realizzato dall'Associazione Settimana del Libro grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con l'intento di porre domande e sollecitare passioni attraverso i libri per trovare l'infa vitale contro l'alienazione che social e tecnologie rischiano di imporre soprattutto ai più giovani. Certamente il tema dell'alienazione tecnologica è un tema importantissimo perché produce disorientamento. Noi invece oggi abbiamo bisogno, attraverso quei saperi purtroppo che si stanno perdendo, di mappe e di punti di riferimento. L'uso della parola, in particolare della narrazione, del racconto, quindi l'attività del raccontarsi è qualcosa di imprescindibile per l'umano. Diceva Roland Barthes che la letteratura è il modello implicito dell'umano. Finché non scomparirà l'umano non scomparirà la letteratura. Per lo meno insomma questo è un ottimismo che ci piace praticare.